Siamo qua, siamo tornati. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene, spero che la vostra settimana stia continuando nel migliore dei modi. Oggi siamo qui per cercare di raccontare un po' quello che è accaduto nella giornata di ieri sera, nella serata di ieri sera. Suona molto male, lo so. Ieri sera, basta. Perché sono in estate a circolare alcune voci, rilasciate da Sky e da Gianluca Di Marzio, su una potenziale ed eventuale permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus. E io, quando questa mattina ho aperto Twitter, perché ieri sera mi sono concesso una serata di totale relax in famiglia, ho visto l'inferno. A parte le mille pro pic di Bresinger, che avevo già visto ieri sera, veramente il J Twitter è un inferno vivente. Praticamente la rappresentazione dell'inferno, veramente. Mi fa sempre morire da ridere quando vedo determinate cose, clamoroso come abbiamo deciso di vivere il calcio. In questa maniera che va anche oltre il rettangolo di gioco, credo che sia assolutamente positivo, perché rimaniamo sempre collegati, si creano dei rapporti, si creano delle community nelle community. Quindi questa cosa, secondo me, è molto molto bella. Però ho visto proprio il terrore da parte degli utenti, perché ovviamente, come dicevo anche qualche tempo fa, secondo me oggi torna al 90% il tifoso juventino. Di tifosi juventini vorrebbe un cambio in panchina. Io credo anche che sia logico che il tifoso della Juventus in questo momento voglia qualcosina di più, perché se dopo due anni non sia stato in grado di migliorare sotto determinati aspetti, beh, allora è giustissimo cercare di volere un altro tipo di approccio al lavoro. Quello che vi dicevo nel video l'altro giorno, una conferenza post partita, anzi pre partita di Udine, non è tanto, secondo me è che il metodo utilizzato da Allegri come lavoro non ha funzionato. E con questa squadra non sta funzionando. Quindi, semplicemente, oggi il tifoso chiede un nuovo metodo di allenamento, una nuova gestione della squadra che vada magari in antitesi con quella che negli ultimi due anni non ha portato trofei. Io credo anche che, poi questa è ovviamente semplicemente una mia riflessione, opinione, non vuole essere una verità, non voglio dire che chi lo fa è sbagliato, ma io parlare di giorno di liberazione, non vedo l'ora che Allegri se ne vada, ecco, a me queste cose, ragazzi, non mi fanno piacere, devo dire la verità, su Twitter è pieno di questo tipo di analisi che non è la mia. Io semplicemente dico che non sarebbe giusto proseguire con questo allenatore perché i risultati non sono arrivati. Anche il modo in cui l'allenatore cerca di mettere in risalto quello che è riuscito a fare, per me non è quello il modo giusto di analizzare questa stagione. Ci sono tante altre sfacciatature che non sono state prese in considerazione, oltre a quelle che, appunto, anche Massimiliano Allegri sta cercando di mettere davanti. Sta cercando di mostrare un po' al tifo, ai tifosi. Quindi, semplicemente questo, io non ritengo la guida tecnica adatta, adeguata, a quella che è la nuova Juventus, quella che sarà la nuova prospettiva di Juventus e quello che è il momento storico della Juventus, a maggior ragione dopo due anni di questo tipo. L'altro giorno era a Juventibus e hanno fatto un sondaggio e mi hanno chiesto di dire la mia prima della fine del sondaggio. La domanda era la seguente, cosa sceglieresti di cambiare per prima cosa in questo momento? Giocatori, allenatori o dirigenza? Intanto il sondaggio era partito e stava vincendo il partito degli allenatori. Quindi la prima cosa da cambiare è l'allenatore. Io ho fatto una riflessione e ho detto, per me non ha nemmeno senso cambiare in primis l'allenatore, perché ovviamente la prima cosa che va modificata è la dirigenza. In questo momento dentro a Juventus c'è un po' di confusione, un po' per dirla così, nel senso che non si capisce chi comanda, non si capisce chi entra a gestire l'area sport, un giorno c'è la voce inerente a Manna, il giorno dopo si dice che si aspetta a Giuntoli, poi si dice che in realtà le due cose sono complementari, che Manna prima, poi quando arriva a Giuntoli c'è. Una squadra non può essere questo. Una squadra deve avere un organigramma chiaro in cui tutte le figure hanno il loro compito. Tizio deve fare questo, Caio deve fare quest'altro, Semproni deve fare questo ancora. Non che uno per questo momento fa questo, poi quando arriva quell'altro allora molla questi poteri, inizia quell'altro, gli racconta che cosa ha fatto. Anche perché poi banalmente le scelte, le decisioni, le opinioni, cambiano da persona a persona, non da società. Non è che la Juventus ragiona sempre così, sono le persone che compongano la Juventus che ragionano in quel modo lì. Quindi dicevo, per prima cosa io voglio un direttore sportivo. Datemi un direttore sportivo, mettetemi a posto la dirigenza. Da quel momento lì, poi si potrà iniziare a ragionare a cascata su tutto il resto. Non si può cambiare l'allenatore o acquistare e cedere dei giocatori prima di sapere chi sarà il direttore sportivo che dovrà scegliere l'allenatore con il quale insieme sceglieranno i calciatori. Ragazzi, una cascata. Dirigenza, allenatore, giocatori. E se tutte queste tre componenti non funzionano, non lo lavorano insieme, non si trovano a loro agio, è un problema. Io in questo momento credo di avere un quadro abbastanza chiaro della situazione, no? Dentro la Juve c'è confusione, c'è caos, perché ognuno dice la sua per amicizia, per convenienza, per costi, per semplicemente anche opinione. Ognuno ha un'opinione diversa di una società che in questo momento non è completa, perché questa Juventus che viviamo oggi, che vediamo oggi, ragazzi, è una Juventus che è stata creata nell'emergenza, è stata assemblata nell'emergenza. Ora che l'emergenza è finita e abbiamo la possibilità di tirare un attimo il fiato, è passato un giorno dal termine del campionato, di tirare un attimo il fiato, aspettiamo che vadano a incastrarsi determinate componenti, perché se no non ha veramente il minimo senso logico, se nemmeno c'è la dirigenza, se nemmeno c'è la società in questo momento, come possiamo pensare al campo? Abbiamo ancora un mesetto, un mesetto di tempo per arrivare al ritiro, che sarà il 10-11 luglio, i primi giorni di ritiro. Io sono convinto che da qui a lì accadranno tante cose, succederanno tante cose. non penso neanche che ci sia questo bisogno di spingere. L'altro giorno mentre eravamo in live su Twitch qualcuno diceva ma secondo te già dopo la partita ci saranno le novità? Ragazzi, calma, anche perché io lo so, io sono il primo che vorrebbe degli aggiornamenti delle novità, però l'altro giorno vi spiegavo, vi raccontavo, vi dicevo c'è una sola componente in questo momento, una sola, una e una sola, ascoltatemi bene perché c'è una e una sola componente, in questo momento che una sola variabile che può andare a determinare la permanenza o no di Massimiliano Allegri una, una e una sola si chiama John Elkan perché sta tutto lì il discorso, ve l'ho detto una volta, ve l'ho detto due volte, ve lo ripeto la terza, la quarta, lo ripeterò all'infinito finché non arriveremo a sciogliere il bando della matassa ma ve la ripeterò. Se John Elkan decide di tirar fuori i soldi che servono per pagare lo stipendio di Allegri anche tenendolo fermo e ovviamente anche soldi per un nuovo allenatore allora si farà, questo cambio in panchina si farà. Se John Elkan deciderà che questa cifra e ovviamente la cifra e l'uomo allenatore insieme sono ritenuti eccessivi allora si andrà avanti con Allegri. Per fare in modo che Elkan prenda questa decisione ragazzi mettiamo insieme una dirigenza almeno la parte sportiva che è quella che va a ragionare su queste dinamiche almeno la parte sportiva quindi non dico che mi aspetto prima Giuntoli perché potrebbe benissimo avvenire prima questo confronto di algo tra Elkan e Allegri ovviamente col benestare di Giuntoli come era successo a Napoli quando proprio Sarri era stato ufficializzato prima di Giuntoli ma Giuntoli aveva scelto Sarri ho fatto un video qualche tempo fa per spiegarvi questa cosa qui però quella è l'unica variabile al momento ragazzi inutile girarci intorno gli amici non gli amici le notizie le non notizie la fretta la pazienza decide John Elkan è l'unico che in questo momento può prendere la decisione perché in questo momento è una decisione economica al di là di quello che pensano dentro la Juventus e c'è un caos incredibile dentro la società Juventus perché c'è una diversità di vedute impressionante non è un caso che il giornalista Tizio dice una cosa il giornalista quell'altro dice una cosa qui dice qua dice qua perché ognuno ha delle fonti interne magari la Juventus e quelle fonti magari hanno delle opinioni contrastanti in questo momento c'è difficoltà c'è caos in questo momento è inutile stare qui a cercare di aggiornare di guardare c'è solo da aspettare in questo momento c'è solo da aspettare perché deve prima formarsi quella che sarà la dirigenza effettiva della Juventus che non sarà quella di adesso ci saranno delle cariche che cambieranno sicuramente ci saranno delle persone che hanno lavorato a fare determinate cose in questi mesi di difficoltà e che verranno spostate magari da un'altra parte dovranno reinventarsi in un altro ruolo verranno licenziate promosse non lo so però sicuramente la dirigenza della Juventus non sarà quella con cui abbiamo affrontato questi mesi di difficoltà e quindi è normale secondo me che oggi la stampa stia facendo fatica perché ogni giornalista parla con una persona specifica e magari quella persona ha delle vibes differenti delle opinioni differenti delle letture differenti poi tutti vanno in una direzione tutte le fonti vanno in una direzione giuntoli cosa significa secondo voi se tutte le fonti vanno in una direzione che è giuntoli ma allo stesso tempo vanno tutti in un'altra direzione Allegri rimane forse non rimane forse va via forse c'è anzi sì no forse no che da una parte giuntoli si è deciso dall'altra Allegri no perché se no tutte le fonti andrebbero ancora in quella direzione lì e quindi finché non si riesce a trovare l'accordo con giuntoli perché tutti sono dell'idea che Juventus giuntoli ci sono stati dei colloqui dei contatti che si sia trovata la formula ma non c'è l'ufficialità fino a che non avremo incastrato il tassello inerente al direttore sportivo l'allenatore non potrà essere il problema affrontato dall'altra parte c'è Allegri che lo sa che è sulla graticola lo sa che non dipenderà più da lui lo sa che il lavoro che ha fatto potrebbe bastare come no e forse no ma potrebbe essere tra virgolette salvato appunto da un contratto pesante a me sembra una situazione in realtà molto chiara e lineare molto chiara e lineare all'interno di una situazione caotica proprio perché i media in questo momento che come dicevo prima non è che Gazzetta Tutto Sport scrive quello sono sempre i giornalisti che scrivano le cose perché sono sempre le persone che compiono le azioni poi le azioni vengono compiute dentro Gazzetta dentro Corriere dello Sport dentro Tutto Sport dentro Juventus dentro Napoli dentro Milan dentro Inter ma sono sempre le persone che compiono le azioni sono le persone che hanno i contatti sono le persone che hanno lo scambio di informazioni di opinioni quindi io sono molto tranquillo da questo punto di vista perché ripeto non ci sono oggi delle certezze vere e proprie perché ogni testata in questo momento ha delle informazioni differenti secondo me proprio perché neanche dentro di Juventus sanno ben chiaro che cosa accadrà perché alla fine c'è uno e uno solo che avrà questo potere decisionale John Elkan che alla fine è quello che tira fuori il dinero ragazzi fatemi un po' sapere le vostre prime qui sotto spero di avervi tranquillizzato di avervi anche aperto un pochettino magari una porta che non avevate visto una linea di ragionamento differente voglio le vostre prime qui sotto nei commenti e noi ovviamente siamo qua se dovesse poi avvenire questo dialogo questo confronto siamo qua pronti a commentarlo un abbraccio